Siamo con gli amici Milena e Claudio di Harley Davidson Verona. Allora Claudio, sempre avanti, questa volta quattro ruote, poi hai portato un trik, e questa che è una meraviglia ed è super aggressiva. Questa è diciamo il nostro ultimo giocattolo, una meraviglia, la base è una Plymouth, chiaramente customizzata da noi, Made in Harley Paradise. Fantastico, e adesso per vedere anche tante altre cose belle, dove vi troveremo prossimamente? Allora prossimamente ci troverete a Motor Days a Roma dal 6 al 9 marzo, vi aspettiamo tutti. E li troveremo tutti, accessori brandizzati Harley Davidson. E non potrebbe essere diversamente.